campus party è un ritrovo meraviglioso di nuove idee nuove prospettive e anche tanti abbracci e tanti microbi che si condividono da parte all'altra se c'è un posto da dove inizierà una pandemia per ucciderci tutti sarà qui ma la parte buona è che probabilmente vista l'innovazione e lo spirito di amore per la nostra specie di quanto si parla di creatività qui se c'è una salvezza per la specie umana inizierà sempre qui anche perché qui sarà al ground zero quindi venite a campus party e preveniamo insieme la pandemia umana oppure se inizierà qui l'apocalisse zombie dove vorreste essere se non qui